nome e cognome luca borsetti antonio fagotti dove sei nato torino ad assisi perugia quanti anni hai 51 41 squadra e ruolo ho giocato nel us pino giocavo 4 fondamentalmente e oggi il ruolo presidente del pino dragons basket firenze da ragazzo quando giocavo giocavo soprattutto nell'assisi come uno e ora sono general manager della frentina basket qual è il tuo piatto preferito molti piatti la paella di bertha il fritto misto alla piemontese la bistecca alla fiorentina la torta al testo e la bistecca fiorentina il tuo campione di basket preferito lady bird magic johnson il tuo maggior successo nel basket da giocatore al sono stato uno dei primi ad andare con la mia squadra a vincere i tornei fuori firenze quando ero piccolino da allenatore le finali nazionali allievi con appunto con la mia squadra da presidente direi la promozione la doppia promozione sedici serie b aver creato una squadra dal nulla nella città più bella del mondo ed aver portato in questa realtà un abile imprenditore e una splendida persona punto di forza della tua squadra l'energia e la gioventù non arrendersi mai punto debole della tua squadra l'ingenuità è un po la giovinezza doversi mettere in condizioni di non arrendersi mai cosa ruberesti alla squadra avversaria grande rispetto per gli avversari per ciascun giocatore ma mi tengo i miei due cose il senso di appartenenza alla maglia e i capelli di borsetti come finirà questo campionato campionato sarà molto faticoso lo vedremo alla fine noi speriamo di fare la grande rimonta in crescita e con i puntini di sospensione per il prossimo anno due aggettivi per la stagione in corso faticosa e intrigante difficile e vincente la cosa più bella del verbi l'attesa e i nostri tifosi che nella città più bella del mondo una volta tanto si parli soprattutto di basket riti scaramantici prima del derby ormai li abbiamo esauriti tutti si va liberi no mai e comunque non ve lo direi parlaci del rapporto con l'altro il rapporto con antonio fagotti è cordiale di collaborazione di amore e odio prima e di stima ora quasi solo d'amore fai un complimento al tuo avversario riesce a farsi in quattro e un martello fai una critica al tuo avversario gli tocca farsi in quattro e un martello pneumatico spesso mira le palle cosa vuoi dire agli avversari prima del derby di sabato veramente è una festa per firenze vinca il migliore non parlo mai agli avversari sono concentrato sui miei non hanno bisogno che io gli dica niente sono già bravi così come finirà il derby al palacoverciano i riti scaramantici non li abbiamo proprio esauriti tutti per cui come finirà il derby al palacoverciano meglio stare sulla scaramanzia non si può dire esatto loro sono favoriti ma vinciamo noi e allora grazie mille al presidente borsetti va bene però voglio vederla e se non mi piace qualcosa allora grazie mille antonio fagotti e ovviamente appuntamento al derby grazie a voi ciao luca